Gagliani ce l'ha detto, ti aveva cercato per andare al Monza, giusto? Sì, Gagliani no, Gagliani mi aveva cercato al Milan, mi aveva cercato dopo il primo anno alla Lazio quando ho fatto 10 gol aveva chiesto allo Tito di prendermi, soltanto che per il rapporto fra i due Gagliani disse, allo Tito gli disse no, tutti tranne parolo, puoi prendere tutti tranne parolo e aveva proposto 20 milioni, soltanto che dopo prese Bertolacci